Tre cose che non sono compatibili con l'NHR, il non abitual resident regime, tre elementi di pianificazione fiscale che vorresti conoscere prima di un tuo relocation o pianificazione in Portogallo. Quali sono? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliaratele e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciare un like per questo splendido contenuto che sto per regalarti. Oggi infatti sto per iniziarti ai segreti della pianificazione fiscale, perlomeno di quelle che riguardano il Portogallo. Oggi di nuovo in questa splendida location della Belen Tower non si può omettere, non si può non parlare di Portogallo. Allora andiamo a vedere perché tutti vogliono utilizzare l'NHR, ma quando è che l'NHR mostra i suoi limiti, scopre i suoi nervi? Tutti sappiamo quali sono i vantaggi, tutti sappiamo, perlomeno come dire, molti di noi hanno la sensibilità di capire che è possibile utilizzarlo in pianificazioni fiscali avanzate, ma piuttosto anche semplici direi, ma tutti noi non conosciamo però quali sono le cose che non posso fare quando vado a iscrivermi a questo regime di agevolazione che è quello del non abituale residente regime. Lo ripeto. La prima cosa che non posso fare o che è difficilmente compatibile con questo regime è quello di avere società offshore. Molti dei miei clienti o comunque in generale molti imprenditori digitali a volte approdano al Portogallo dopo aver girato altri paesi che possono essere blacklist o meno, per esempio Dubai, per esempio Hong Kong, oppure approdano in Portogallo quando hanno già costruito delle società a volte fuori dai confini dell'Unione Europea. Ebbene la notizia di oggi è che le società cosiddette offshore, quindi tecnicamente quando vado a incorporare una società come quella di Hong Kong a tassazione territoriale dove 9 volte su 10, poi dipende dalla dinamica del business, non c'è tassazione, ebbene queste strutture offshore 9 volte su 10 non sono compatibili con la residenza fiscale in Portogallo perché il Portogallo appartenendo all'Unione Europea ma comunque a prescindere applica delle normative anti-abuso. Il 99% delle normative anti-abuso di tutto il mondo sono create specificatamente per evitarti la possibilità di non pagare tasse, quindi capisci da solo che se hai una società offshore a Panama o a Hong Kong e vieni a vivere in Portogallo questa struttura non è compatibile. Il secondo elemento di incompatibilità con l'NHR è il cosiddetto POIM, in Italia la chiamiamo esterovestizione, in giro per il mondo si chiama place of effective management, quando io vengo in Portogallo e ho società anche offshore o inshore, cioè anche all'interno dell'Unione Europea e sono io l'unico socio e l'unico amministratore si va a determinare quella che noi conosciamo da italiani come esterovestizione, è una regola che vige nel 90% delle giurisdizioni del pianeta Terra e ce l'ha anche il Portogallo che ribadisco appartenendo all'Unione Europea non può non applicarla, quindi nella misura in cui tu sei l'unico socio e l'unico amministratore della tua società non portoghese, in caso di accertamento potresti avere dei seri rischi di contestazione e rischieresti tra l'altro anche di perdere questa contestazione da parte delle autorità tributarie locali. Il terzo elemento da considerare è che l'NHR non dura per sempre, ha un'ondorata di 10 anni, può essere sospeso a determinate condizioni, quindi potrei pensare di andare via dal Portogallo oppure se devo andare via per problematiche di qualsiasi natura e ritornare io lo posso sospendere, ma in ogni caso non va al di là dei 10 anni, 10 anni passano in fretta e quindi è necessario perlomeno superati i primi 4 o 5 già pensare al futuro, anche perché al di là del fatto che non dura per sempre va anche considerato che la normativa potrebbe cambiare da un momento all'altro. Io sono Luca taglia la tela sul canale di Tax Spending internazionale, mi auguro che questo contenuto ti sia piaciuto, dubbi, approfondimenti, clicca il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video.